Da sempre avrei voluto fare una mostra sulla natura morte, quindi è stata un'ottima opportunità per coronare un sogno. Inoltre queste opere così eccentriche hanno rappresentato una sfida piuttosto appassionante. Si trattava poi di esporre i frutti sottecenteschi della collezione fiorentina in relazione con la collezione Garnier Valletti dell'Useo della Frutta di Torino, che invece è di epoca più recente e per questo ho realizzato un'installazione vera e propria, site specific, partendo dall'Oculus della Volta, ellittico, e prendendo suggerimento dalle decorazioni della Volta di stampo tipicamente settecentesco che ritraggono vogliere e uccelli per creare una vera e propria vogliera che in questo caso ironicamente ospita la frutta e gli ortaggi delle due collezioni.